Cari amici del canale, oggi ci immergiamo nell'universo scintillante dell'isola dei famosi 2024, dove le sorprese non finiscono mai. Avete mai sognato di essere su un'isola deserta circondati da celebrità? Beh, preparatevi, perché il cast di quest'anno promette scintille e noi siamo qui per svelarvi in esclusiva gli ultimi clamorosi ingressi. Pronti a scoprire insieme a noi chi si avventurerà in questa indimenticabile odissea? Immaginate l'emozione di calarsi nei panni di un naufrago, tra sfide adrenaliniche e fuochi di accampamento sotto le stelle. Quest'anno, tra i coraggiosi avventurieri, ci saranno volti noti che hanno già dimostrato di avere stoffa e spirito di sopravvivenza. Da Arthur Dainese, il modello con un passato da tentatore e un podio a Supervivientes, a Francesco Benigno e Luce Caponegro, già veterani di reality che hanno saputo reinventarsi nella vita reale. Ma non è tutto. Anche Matilde Brandi e Edoardo Stoppa sono pronti a mettersi in gioco, lasciandosi alle spalle i riflettori dei programmi TV per affrontare la natura selvaggia. E mentre alcuni nomi sono confermati, altri ci tengono sul filo dell'incertezza. Rossella Erra e Chiara Gagliazzo riusciranno a superare le loro titubanze e a unirsi alla squadra? E cosa dire di Antonio Caprarica, trattenuto da imprevisti personali? Le dinamiche dell'isola sono imprevedibili come il meteo nei Caraibi, e noi non vediamo l'ora di vedere come si evolveranno. In questo mosaico di personalità ed esperienze, una cosa è certa, l'isola dei famosi 2024 sarà un viaggio carico di emozioni, sfide e, chi lo sa, forse anche di nuove amicizie. Restate sintonizzati per non perdervi nemmeno un minuto di questa avventura che promette di essere indimenticabile. E voi, chi pensate che si aggiudicherà il titolo di vero sopravvissuto? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per seguire tutte le novità sull'isola dei famosi.